Damiani, mi chiamo Damiani Luigi, ho 70 anni, arrivo dal Friuli, Venezia Giulia, in clinica qui ho fatto un lavoro riabilitativo totale, in quanto avevo una bocca piuttosto disastrata. La decisione di venire in clinica è stata motivata a due cose, la prima sui social, quindi attraverso Facebook e poi anche un mio amico, sempre di Lignano-Sagliadoro, è venuto anche lui a fare l'intervento qui in clinica, a Chisinau. L'impatto che ho avuto in clinica è stato estremamente positivo, sia dal lato medicale, chirurgico, sia dal lato, diciamo, della logistica. L'assistenza è stata sempre molto, molto precisa, molto attenta e le persone estremamente disponibili. L'intervento è stato piuttosto invasivo nel senso che aver fatto sei impianti superiori, sei impianti inferiori, ha implicato un lavoro di quasi sei ore da parte del chirurgo. Onestamente non ho avuto dolori neanche nel post intervento, quindi diciamo, è estremamente valida la situazione. Una persona che non ha una bocca sana è chiaro che riflettono su tutto l'andamento del corpo, quindi dalla masticazione alla digestione e via dicendo. Però diciamo che adesso questo problema dovrebbe essere risolto definitivamente. Beh, l'importante è il sorriso, è importante un po' per tutte le persone, di come si presentano, di come si mostrano alle altre persone. Il fatto di essere in un ambiente anche dove sei considerato, è logico che avere la tua presenza di un certo tipo è importante e il sorriso è la cosa più importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti.